Il divacco sporge dalla nebbia. Questo è il famoso o famigerato divacco volto lì. Marco con un camoscio ci aspetta qui da mezz'ora e ecco lui ce l'abbiamo lasciato un'oretta fa ecco ci arriviamo 2150 le carte di anno 2082 arrivati per ora si vede solo il divacco è già tanto così siamo dentro al bivacco coltolina 9 posti letto e non è che al punto è giunto qui in aria al punto